La verità è che l'Italia è un paese in guerra da oltre 15 anni. Se sei casalingo, ami il fuoco del fornello come me. Come è forza, non lo direi, forza! Faccio parte della missione Bad Beer. Papà deve ripartire, missione Top Secret. Diggi che mi deve 150 euro per il vinto della macchina che mi ha spaccato stamattina. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Che dici, andiamo? Where are you going? Where are you going? Io non credo alle coincidenze, non credo neanche al destino. Io so soltanto che quello non doveva trovarsi qui. Perché lui ha una sola ragione di vita, l'ho capito. Lui vuole il mio fallimento. Qualcuno vada a prendere mio figlio. A terra! Tutti a terra! A terra! E questo ci penso io! Petteriello, cosa fai? Io a casa non ci torno. Ci sono tutte le condizioni per fare una grandissima figura di merda. Cosa fai succedendo? Sopr eso. Cosa fai succedendo? Pug-pug. Cosa fai succedendo? Cosa fai succedendo? Grazie.